E' il secondo incidente stradale lungo la strada statale 73 bis a poca distanza l'uno dall'altro, il primo all'altezza dell'uscita di Fano Sud alcuni giorni fa e che presentano la medesima dinamica. Un mezzo fermo al lato della careggiata addetto alla manutenzione che viene violentemente tamponato da un altro veicolo che procede lungo la stessa careggiata. Sia la volta scorsa che questa è andata bene, in entrambi i casi si parla di conducenti usciti con le proprie gambie dal mezzo, ma due casi non fanno più una coincidenza e viene da chiedersi se questi cantieri volanti vengano segnalati nel modo giusto, con tutte le accortezze del caso e se quindi gli automobilisti che sopraggiungono siano in grado di percepire per tempo il cantiere o gli operatori lungo la careggiata. Questa mattina attorno alle 11.30 all'altezza dello svincolo di Sant'Ippolito una station wagon che procedeva in direzione monte ha tamponato violentemente un furgone con cartellonistica lampeggiante fermo nella corsia in direzione Urbino della Fano Grosseto che faceva da supporto ad alcuni operai che con un bobcat eseguivano manutenzione di alcune cunette. L'urto contro lo spigolo posteriore sinistro dell'autocarro ha mandato in mille pezzi la parte anteriore dell'auto che si è aperta come una scatoletta di sardine ma le conseguenze fisiche per il suo conducente sono state lievi probabilmente anche grazie agli airbag che sono entrati subito in azione. L'uomo è uscito seppur disorientato e dolorante al petto da solo dall'auto ed è stato subito soccorso dai presenti che lo hanno fatto sedere sul guardrail in attesa dei soccorsi. Il conducente anche leggermente ferito al volto è stato trasportato dagli uomini del 118 per gli accertamenti del caso al pronto soccorso di Fano. I lesi, gli operai del cantiere che stavano operando in strada. Il tratto di superstrada interessato è stato chiuso dall'ANAS con uscita obbligatoria a Serrungarina per chi procedeva in direzione Fossombrone in attesa del carroattrezzi per la rimozione del mezzo incidentato. Sul posto anche una pattuglia della stradale della sottosezione di Urbino per i rilievi di legge.